Sean, allora dopo questa camminata come ti senti? Oh, bagnato, bagnato, come mai? Oh, cosa ti è successo? Come l'altro sentito? Come è il fatto? Io al sinistro e lui al terzo? Ti sei inginocchiato? Dove? 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 Questo qui che ci riprende? Dove? Come l'altro senti? Hey! Provida la fre, mi fe Ke Scraficoare il bello, a te nel giro si giべ laṣ Dove? Dove? No grepi tutti come, non wearsci שא�h si puガgo Grazie per la visione!